Sarà l'inchiesta della procura di Trani al momento a carico di ignoti a far luce sulla morte di Nunzio Cognetti, operaio trentenne, morto ieri pomeriggio dopo essere caduto in una vasca per la preparazione di conserve all'interno dell'azienda agricola Grinatura incontrata a Sant'Agostino nelle campagne di Andrea. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. In un primo momento sembrava che l'uomo fosse caduto in una vasca per la pigiatura dell'uva, mentre secondo la ricostruzione degli inquirenti, anche grazie all'ausilio delle videocamere a circuito chiuso dell'azienda, l'operaio sarebbe scivolato mentre portava del basilico, rimanendo incastrato in un macchinario per la preparazione di sughi, pesto in particolare, prima di essere poi trascinato nella vasca da cui lo hanno estratto alcuni colleghi, resisi conto di quanto stava accadendo. L'immediato intervento degli altri operai, l'arrivo tempestivo sul posto dei soccorritori del 118, oltre 40 minuti di massaggio cardiaco, non hanno però potuto far nulla per salvare la vita al trentenne. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate all'arrivo dei soccorritori. Sul posto, oltre alla polizia, sono giunti anche i tecnici dello special dell'ASL BT. Gli accertamenti degli inquirenti puntano a verificare la conformità del macchinario utilizzato dall'uomo e la formazione del personale. Il trentenne, nei primi accertamenti, era regolarmente assunto all'interno dell'azienda andriese. La morte di Nunzio Cognetti è la 53esima dall'inizio dell'anno sul lavoro in Puglia.